Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Sfiorato il dramma ieri al vecchio Romagnoli dove era in programma la partita di rugby tra il Cus Molise e il Benevento. Mentre la gara si stava svolgendo il medico sociale del Cus, dottor Mimo Del Corso, si è reso conto che il capitano dei molisani Mariano Credico, seduto al suo fianco in panchina, ha accusato un malore. Il dottor Del Corso ha accompagnato immediatamente Mariano Credico in ospedale dove gli è stato riscontrato un aneurisma della orta. Operato d'urgenza alla Cattolica, il capitano del Cus è ora in prognosi, strettamente riservata. Naturalmente rivolgiamo a Mariano che è stato ospite anche della nostra trasmissione Domenica Sport qualche tempo fa. Rivolgiamo a Mariano, davvero il più sentito in bocca al lupo. Ti aspettiamo presto, ti vogliamo ospitare di nuovo. Prima giornata dello sport, oggi a Campobasso, da questa mattina presso l'auditorium ex Gil, è in corso di svolgimento la manifestazione organizzata dall'assessorato allo sport della Regione Molise. Questa mattina l'incontro con le scuole da parte del consigliere delegato allo sport Carmelo Partiglia con i campioni molisani, Andrea Lalli, Maria Centracchio, poi ancora Stefano Patriarche e Fabio Emanuele. Nel pomeriggio alle 17 è previsto un convegno sul tema sport e capacità creative, mentre le premiazioni si svolgeranno a partire dalle ore 19.30 di questa sera. Campionato di Serie D, seconda giornata di ritorno, vediamo le partite nel Girone F. Celanio-Iesina 2-0, Civitanovese-Boiano 2-0, Fanno-Recanatese 0-0, Fermana-Maceratese 0-4, Isernia-Giulianova 1-0, Matelica-Pesaro 0-0, Limpia-Agnonese-Sulmona 1-0, Renato-Curia-Miternina 1-1, Termoli-Ancona 0-0. In testa sempre Lancona, quota 41, Maceratese 36, Termoli 35, Matelica 34, Pesaro 33, Giulianova 32, Isina 30, Sulmona 29, Celano e Civitanovese 26, Fermana 23, Fanno e Amiternina 22, Recanatese 21, Olimpia-Agnonese 20, Isernia 15, Renato-Curi 7, Boiano 3. E' terminato a reti inviolate il big match del Cannarza. Un bellissimo pareggio, 0-0 fra il Termoli e l'Ancona, tutto invariato nella zona alta della classifica e il distacco rimane lo stesso fra le due battistrata del campionato. Sei punti fra il Termoli, la formazione d'Orica, quella che praticamente lascia il Gino Cannarsa inviolata e quindi mantiene la leadership del campionato nazionale di lettanti. Davanti a un'ottima cornice di pubblico, circa 2.000 spettatori, tantissimi arrivati in Basso Molise per tifare e per dare il loro sostegno all'Unione Sportiva Termoli. Dall'altra parte, più o meno un centinaio scesi dal centro marchigiano per il supporto alla leadership del campionato. Pronti via un buon Termoli, quello che cerca di affrontare questo confronto a viso aperto, nonostante le tante assenze. Ma lei, prima battuta di gioco e l'Ancona a farsi pericolosa con il molisano Sivilla, qui il suo diagonale con la palla che termina alta sulla traversa. Il Termoli prende per mano il confronto, ci sono 20 minuti di altissimo livello per la formazione giallorossa, qui la conclusione in corsa di Di Mercurio che non inquadra lo specchio della porta. Ci prova l'argentino Bondi su punizione, minuto numero 28, la palla fa la barba al palo. L'Ancona nel finale di tempo accelera e si avvicinò verso la porta, qui il cross di Dio con Sivilla che rimette in mezzo un pallone. Patania che si salva da gran campione, ribattendo la spera sulla linea di porta. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. La partita la fa praticamente la squadra marchigiana che si presenta in campo vogliosa di cercare il gol. Primissime battute, subito questa conclusione con la palla che arriva al limite dell'area di rigore. Il tentativo da parte di Marfia con la sfera che termina sul fondo. Siamo al minuto secondo, il Termoli si fa vedere al decimo. La pennellata di Manzillo, la sfera che arriva in area di rigore, allontanata momentaneamente la sfera. Con Toscano che ripropone in mezzo un pallone che l'estremo difensore Lory deve andare a deviare in calcio d'angolo per evitare rogne. Ancora il Termoli, momento importante, ventisesimo, fa tutto benissimo la Rosa che poi conclude in modo non perfetto verso la porta. Difesa da Lory, cresce la formazione marchigiana che si rende pericolosa al ventinovesimo. La conclusione dalla media distanza di Marfia con la sfera alta sulla traversa di Patania. Il Termoli è vivo e presente sul rettangolo di gioco. Qui l'occasionissima capita sul piede di Tudino per far esplodere il Cannarsa. Ma la sfera termina incredibilmente sul fondo. Sale l'Ancona che nel finale, nonostante rimane con poca benzina in corpo, si fa vedere. Qui l'argentino Bondi arriva sul fondo, mette in mezzo un pallone. La Rosa diventa portiere, con un braccio ribatte la conclusione giudicata involontaria da parte del direttore di gara che va praticamente a graziare la formazione del Termoli Calcio. Protestano tantissimo i marchigiani ma alla fine prevale il giudizio del direttore di gara. Ma l'Ancona è lì e cresce poderosamente. Patania svetta alla grande sul tentativo di testa di Mallus riesce a sventare la minaccia. Poi ci prova Pazzi, da poco entrato Patania vola con un colpo di Reni a deviare in angolo il tentativo del bomber della formazione marchigiana. Ma in finale del Termoli Manzillo qui esalta le doti di Lori che si salva alla grande evitando la beffa per l'Ancona. Finisce così al Gino Cannarsa, pari e patta 0-0. Alla fine un pareggio che accontenta tutti. Dagli 11 metri è stato Vittorio Esposito a realizzare il gol Vittoria contro il Sulmona per l'Olimpia Agnonese. L'Olimpia Agnonese batte il Sulmona per 1-0. Al Civitelle per la prima in casa del girone di ritorno e Granata soffrono ma riescono ad incassare tre punti preziosi per togliersi dall'impasto di una classifica che questa stagione, almeno fino ad ora, l'anno verrà tra le ultime. Il morale sembra quello giusto, il momento pure, quindi con un po' più di grinta la ricetta salvezza può essere più semplice di quanto si possa immaginare. Ma andiamo alla cronaca del match. Il primo squillo arriva al settimo minuto di gioco con Esposito su calcio di punizione ma Meo è pronto a respingere. Al dodicesimo c'è Spadari sulla palla in ottima posizione ma il suo tiro va al lato di poco. Un minuto dopo è Berardo a farsi pericoloso con un colpo di testa che va alto di un soffio. Poi più nulla fino al quarantacinquesimo quando Troccoli sembra sciupare una ghiotta opportunità per i Granata ma in realtà l'assistente ha già sbandierato il fuorigioco. A reti inviolate si va dunque negli spogliatoi. La ripresa vede Lagnone tornare in campo con qualche accorgimento da parte del mister e di sicuro un altro spirito. All'undicesimo Di Benedetto sugli sviluppi di un calcio di punizione va fuori di poco e al quindicesimo è sempre Di Benedetto che illude con quello che sembra essere il momento della svolta un gol che però viene annullato per fuorigioco. Al diciassettesimo la svolta arriva davvero Di Ciccio commette fallo in aria su Mancini ed è rigore. Al dischetto va Esposito che porta i suoi sull'1-0. Dal venturesimo in poi possiamo annotare più espulsioni che azioni. Si comincia con Fragli per doppia munizione. È una motivazione che non vediamo ma l'arbitro evidentemente sì. Sembra una sberla ammaresca ma dagli spogliatoi arriva la smentita quindi è per qualcosa che ha detto. Al trentesimo tocca Esposito con un rosso diretto sempre per proteste con il direttore dal cartellino facile mentre al quarantesimo Lorenzetti a finire sotto la doccia anzitempo per un fallo su Mancini. Espulsioni che non ridisegnano il corso della partita ma sicuramente peseranno nei prossimi incontri delle due squadre. Il Sulmona se ne torna a casa contento solo per aver finito con le molisane più ostiche del previsto a quanto pare mentre l'Agnone può ripartire da qui nella sua corsa per la salvezza. Vittoria di misura anche per Lisernia ai danni del Giulianova. Grinta, voglia di far bene e un giusto approccio mentale permettono a Lisernia di portare a casa l'intera posta in palio imponendosi per 1-0 sul più quotato Giulianova. All'esordio in panchina c'è il mister Califano che bagna con questa vittoria il suo nuovo corso. Veniamo alla cronaca del Merch. All'ottavo minuto annotiamo la prima occasione per i patroni di casa con Damizia ma il batti e ribatti non sortisce effetti. Al 22esimo da calcio piazzato c'è Sorrentino per il Giulianova scavalca la barriera ma non crea problemi. Dopo qualche secondo un'occasione importante sui piedi di Quintiliani che però scarica sul portiere. Al 31esimo è Rinaldi a farsi insidioso ma un buon intervento di Tommarelli allontana il pericolo. Al 41esimo Panico si trova tu per tu con Merillo che però offre una buona opposizione. Ma insiste il capitano bianco celeste e al 46esimo fa esplodere di gioia l'ancellotta riuscendo così a siglare il gol dell'1-0 tutto dedicato allo scomparso Agostino Di Tore. Sul vantaggio appena ottenuto dunque si sguadagnano gli spogliatoi e con le immagini di Giancarlo Buscherli ergo la ripresa. L'Isernia continua a gestire il vantaggio il Giulianova non trova spunti. Il primo episodio da notare al 23esimo su un affondo dell'Isernia Veneri commette un evidente fallo di mano ma Colinucci della sezione di Cesena giudica tutto regolare facendo proseguire il gioco. Al 27esimo registriamo questa conclusione pericolosa degli ospiti ma Tom Marelli respinge. Al 33esimo ancora pericoloso il Giulianova con Dorazio ma la conclusione è di poco fuori. Al 41esimo si alzano ancora le proteste dell'Isernia per questo rinvio al portiere bloccato con le mani dall'1 ospite. Sugli sgoccioli del match insiste il Giulianova con questa conclusione di Puglia ma Tom Marelli c'è. Al 46esimo è brosi a provarci ma la conclusione si spegne sul fondo. Dopo ben sei minuti di recupero arriva il triplice fischio e l'Isernia può finalmente gioire per questi tre punti importantissimi. E domenica prossima sarà ancora una volta importantissimo sfruttare il fattore campo grazie ad un'altra gara a Casalinga contro la Fermana. Diciassettesima sconfitta consecutiva per il Boiano in casa della Civitanovese. Dopo tre minuti di gara Scandurra si presenta subito al suo nuovo pubblico timbrando una clamorosa traversa con un violento colpo di testa. Il peso specifico del bomber rosso-blu si nota fin dalle prime battute. Avvio deciso dei rosso-blu. Il tridente offensivo si muove con efficacia e disinvoltura. Il Boiano prova a contenere le folate avversarie ma evidenzia nette carenze in mediano. Al settimo arriva il gol della Civitanovese. Angolo dalla destra di Forgione che imprime alla sfera una traiettoria carica d'effetto che si infila direttamente in rete dopo aver superato una selva di gambe. La rete dell'1-0 distende i nervi della Civitanovese che continua a spingere. All'undicesimo punizione di Forgione di poco a lato. Al dodicesimo buco della difesa del Boiano non ne approfitta Scandurra che si fa rimpallare la conclusione. La scuola di Gabanini riesce a verticalizzare con estrema facilità. Al quarto d'ora Valdez sfonda sulla sinistra e va al tiro. Il portiere Romano si salva con i piedi. Boiano assolutamente impalpabile e rinunciatario. Al ventiquattresimo Scandurra impegna ancora Romano. Il raddoppio è nell'area e arriva al ventisettesimo. Discesa dell'under Spigonardi sull'auto di destra cross radente sul secondo palo per il facile tap-in di Valdez. Tutto fin troppo semplice per la Civitanovese. Il Boiano concede ampia libertà di fraseggio negli ultimi venti metri assistendo passivamente alle combinazioni rosso-blu. Partita sostanzialmente in archivio. Incamerato il doppio vantaggio la Civitanovese diventa più compassata e leziosa senza inferire sul malcapitato Boiano. Al quarantaquattresimo Forgione cerca il bis da calcio d'angolo. Questa volta è solo una mischia furibonda in area che si spegne senza esiti rilevanti. Al quarantacinquesimo pezzo di bravura lo scatenato Valdez che si libera sulla sinistra e cerca un assist delizioso per Scandurra anticipato dalla difensore Ancona che smorza di petto verso il bottino. Squadre al riposo sul 2-0. Sui secondi 45 minuti c'è ben poco da disquisire. I rosso-blu si limitano a gestire il vantaggio rallentando i ritmi e monopolizzando il possesso palla. La squadra di Gabbanini ha tutti gli spazi e le comodità per incrementare il bottino ma ricama troppo al momento di finalizzare. Al diciannovesimo il nuovo entrato Trillini cerca Scandurra a centroarea la difesa molisana si salva con appanno. Scandurra verrà poi sostituito da Dancona per l'ex attaccante di Sambre, Lucchese e Terrana una prova incoraggiante senza l'acuto del gol. Il primo brivido per la civitanovese arriva al ventitresimo peraltro in una circostanza casuale una carambola che fa termina nella sfera di poco oltre la traversa presidiata da Falso. Al venticinquesimo Forgione cerca la soluzione di potenza Romano attento a protezione della primo palo. La gara è ormai una stucchevole litania di passaggi in attesa del fischio finale. Al trentaseiesimo ingenua espulsione di Valdessa per doppia munizione un episodio che non muta più di tanto gli equilibri sul rettangolo verde. Civitanovese in pieno controllo Boiano volenteroso ma incapace di pungere sotto porta. Dopo un rigore reclamato da Trillini al trentottesimo la squadra di Cagiano si fa vedere con una staffilata della difensore Ancona dalla grande distanza che chiama Falso all'unico vero intervento del pomeriggio. Basket divisione nazionale B è servito un tempo supplementare a Lanciano per avere la meglio sul Venafro 68 a 65. Gara casalinga anche per l'Isernia in divisione nazionale C i molisani hanno superato 75 a 73 il Trani. In C regionale al campo basket il derby contro l'NBC 66 a 54. Il rival Imosani di scena a Roseto ha perso 58 a 45. Il quadro si è chiuso con Termoli San Vito Ortona che con gli atriatici KO per 66 a 57. Adesso il campionato d'eccellenza si è giocata la seconda di ritorno vediamo i risultati Alifero Caravindola 3 a 2 Campobasso Santeliana 6 a 1 Gliternina Venafro 0 a 1 Gambatisa Gioventù Dauna 2 a 3 Montacuila Vastogiratis 1 a 0 Montenero Vairano 0 a 1 Sesto Campano Fornelli 4 a 3 Pozzilli Roseto 1 a 2 In testa a punteggio pieno il campo basso a coda 51 Gioventù Dauna 40 Sesto Campano 37 Fornelli 34 Venafro 31 Vastogirati 25 Gambatisa 24 Roseto e Montacuila 23 Roccaravindola Santeliana 17 Cliternina 15 Pozzilli 13 Vairano Alife Montenero 12 Si allunga ulteriormente la serie positiva del Campobasso che ha superato anche la Santeliana Il preambolo di Campobasso Santeliana è toccante dal punto di vista emotivo ci sono da festeggiare le 150 presenze di Minadeo con la maglietta Rosso Blu quest'ultimo viene festeggiato appunto con la consegna di una targa ricordo e con una maglietta recante il numero 150 il tifo si stringe attorno a Minadeo campeggia tra i tifosi campeggiano vari striscioni che regano appunto la scritta di Minadeo erede di Scorrano Minadeo si commuove visibilmente il Campobasso dopo aver sofferto nei primi minuti batte con grande disinvoltura la Santeliana per serie di A1 e allunga a 17 la striscia di vittoria consecutive la Santeliana passa in vantaggio al sesto lancio in profondità di Diorio per Ferrante dubbia la sua posizione ma comunque si può proseguire secondo l'assistente Izzo di Isernia corre verso la porta e batte Munziata Ferrante per l'1 a 0 per la Santeliana al dodicesimo la risposta di Monti con un sinistro che finisce a lato la reazione concreta del Campobasso e al tredicesimo e qualche secondo con un tiro di Lazzarini che viene intercettato dal gomito di Diorio e poi sbatte contro la coscia di Cordone e calcio di rigore secondo Martino di Isernia e giallo per Diorio dagli 11 metri si propone Lazzarini che va a realizzare il gol dell'1 a 1 il Campobasso a questo punto spera nella vittoria al diciannovesimo cross di Scudieri bello il gesto tecnico di Minadeo con la palla che termina fuori al ventiduesimo Palumbo mette al centro Scudieri cerca di di piazzare intercetta un difensore in maglia rossa Campobasso molto vicino al gol del vantaggio al ventiseiesimo Cordone imbucata per Totaro e dubbio il fuorigioco rilevato al giocatore in maglia rossa al ventottesimo Fazio Volpecina mette al centro il pallone si impenna al volo va Lazzarini che colpisce il palo al trentunesimo Monti Vitelli Minadeo al volo proprio quest'ultimo con il pallone che termina di poco al lato il Campobasso meriterebbe il gol del 2 a 1 che arriva al trentaduesimo bello il cross pennellato bene da Palumbo schiaccia di testa Lazzarini doppietta personale e Campobasso avanti la reazione da parte della Santeliana un indemoniato Ferrante al trentaquattresimo riesce a superare anche il muro di Scampamorte entra in area di rigore e a tu per tu con Nunziata va a calciare sull'esterno della rete il Campobasso ha la partita in discesa ancora più in discesa dopo il trentaquattresimo quando Fazio realizza un gol del 3 a 1 con la complicità del portiere ospite Lombardi Campobasso 3 Santeliana 1 e il tempo si conclude con un tiro di Vitelli al quarantaquattresimo con la risposta proprio di Lombardi non c'è praticamente più partita Farina fa entrare Santoro al posto di Volpecina dal primo della ripresa al secondo a tu per tu con il portiere avversario Mauriello si fa respingere il pallone buono al quinto punizione di Fazio tocca con un ciuffo di capelli scampamorte il pallone termina alle spalle di Lombardi 4 a 1 per il Campobasso al nono entra pure Di Lallo per scampamorte il Campobasso continua ad attaccare continua anche il festival dei pali alla fine saranno quattro al dodicesimo sinistro potente di Vitelli la palla incoccia il palo poi si può proseguire al sedicesimo Fazio stoppa con un braccio va poi a segnare il gol non vale e poi c'è anche il cartellino giallo per Albino Fazio al ventiduesimo Vitelli difende palla tiro con il sinistro e gol del 5 a 1 anche di buona fattura subito dopo esce proprio Vitelli per favorire l'ingresso di Cianci al ventitresimo Lazzarini sottrae il pallone ma si fa poi ipnotizzare da Lombardi ancora azioni solo di marca rosso-blu trentatresimo Palumbo sottrae palla all'avversario dribbling porta a vuota poi si fa deviare il pallone in calcio d'angolo al trentottesimo altro palo stavolta è quello di Di Lallo defilato la conclusione deviata da Lombardi proprio sul palo al quarantatresimo fallo di reazione da parte del già monito di Iorio la Santeliana rimane in dieci viene espulso proprio il terzino ospite al quarantacinquesimo c'è la tripletta da parte di Lazzarini defilato effettua un pallonetto che termina le spalle di Lombardi Campobasso 6 Santeliana 1 ancora da notare l'ennesimo pallo esattamente il quarto c'è il tiro cross da parte di Monti che incoccia la traversa poi Cianci si fa deviare il pallone in totale quattro legni alla fine della partita il Campobasso festeggia oltre alla vittoria anche negli spogliatoi con una torta leva appunto le 150 candeline di Minadeo con la maglietta rosso-blu Vittoria al fotofinish per la gioventù Dauna in casa del Gambatesa Quanti brividi oggi al venditti al di là del risultato crediamo che le vacanze di Natale abbiano fatto bene al sorprendente Gambatesa che nei primi 45 minuti di gioco ha tenuto testa al capriccioso avversario il calcio Dauna così ben ancorato al suo podio d'argento nel massimo torneo regionale Gambatesa ottimo per metà che ha riconosciuto senza nascondersi troppo la superiorità agonistica dell'avversario avversario partito fortemente all'attacco tanto che dopo sei giri di lancette su punizione battuta da Troisi ci pensa Vairo a gonfiare per primo la rete con un gol davvero spettacolare nel senso più letterale del termine sulla respinta di Capobianco Vairo ingegna una rovesciata davvero interessante per gli amanti del calcio la prima occasione per i padroni di casa si registra al nonno minuto con Cadamusto serve del Zingaro che però non finalizza il pareggio fin qui a nostro parere ben meritato arriva al 22esimo del Zingaro crea un assist davvero succulento per del Re che di rabbia e di orgoglio in sacca la tensione aumenta e anche la gioia dei tifosi bianco-verdi al 32esimo il Gambatesa si porta in vantaggio con un gol straordinario di del Zingaro che di sinistro bugera Stango che così resta a guardare mentre partono i cori dei tifosi del Venditti sullo scadere del primo tempo viene annullato per fuorigioco un gol del calcio Dauna di Scippo tra le polemiche termina così la prima frazione di gioco secondo tempo altro volto per i fortorini che cedono passo e spazio agli avversari tanto che al 17esimo arriva puntuale il pareggio pugliese cross di Troisi basta metta e mezzo e Recchia riporta la speranza ai suoi e mentre gli undici di mister Totaro così restano un po' a guardare al 41esimo si registra un doppio brivido per il calcio Dauna in palli favorevoli prima per Piemontese e poi ancora per Scippo il Gambatesa assorbe tutti i colpi inferti dal nemico ma non riesce a spuntarla al 42esimo annullato addirittura un altro gol ai pugliesi per fallo di mano molto evidente di Piemontese ma come si suol dire non finisce qui perché quando siamo al 43esimo De Paulis becca la traversa in pieno al 47esimo l'arbitro allontana dal campo mister Totaro per proteste e ciliegina sulla torta ecco che arriva il terzo gol dei pugliesi Pompetti ruba palla del Zingaro il numero 3 serve un cross in area e di testa a Telera porta a casa la vittoria per i suoi mentre per il calcio Dauna si concretizza sempre più il sogno dei playoff oggi deve essere sottolineata la bella prestazione del Gambatesa alle volte una sconfitta non brucia poi così tanto se si è consapevoli di aver dato il massimo pallavolo maschile di serie B2 gara casalinga per la pallavolo Agnone contro Altamura netto 3 a 0 dei molisani stesso risultato anche per l'isernia femminile di cateteria contro il Benevento la nuova pallavolo campo basso è stata impegnata con la prima divisione maschile ad Agnone gli altomolisani hanno vinto 3 a 1 la squadra femminile della nuova pallavolo in campo 4 under 14 2 under 13 ha vinto 3 a 0 contro Santa Croce di Magliano per la pallavolo femminile di serie D girone A e la termoli pallavolo Simona Fashion ha ospitato e battuto il basto 3 a 0 campionato di promozione anche qui seconda di ritorno ecco i risultati Casalnuovo Riccia 3 a 2 Civitanova Spinete 1 a 1 Toro Campodipietra 1 a 6 Maronea Vinchiaturo 1 a 4 Molise Castelmauro 0 a 2 Real Termoli Acli 1 a 0 Roccasicura Cerce Maggiore 1 a 3 Torre Magliano Matese 0 a 2 in testa Sporting Matese 44 Casalnuovo 36 Riccia 34 Vinchiaturo e Real Termoli 27 Acli 25 Cerce Maggiore Castelmauro 24 Molise 22 Torre Magliano 21 Campodipietra 19 Toro 17 Roccasicura 16 Maronea 13 Civitanova 11 Spinete 10 Vittoria in esterno in chiave salvezza per il Castelmauro sulla Molise Con un gol alla fine di ogni tempo il Castelmauro si aggiudica con merito lo scontro con il Molise ed aggiunge altri tre punti importanti alla propria classifica La gara è assolutamente noiosa soprattutto nei primi 45 minuti dove accade ben poco Al nono Antonacci disegna una bella traiettoria su cui si avventa consiglio che manda alto Per vedere qualcosa dei locali bisogna aspettare il 23esimo con Nicola Morosa che la manda fuori Per capire che la partita è deprimente lo si vede al 32esimo con questo tiraccio di Antonacci Molto più pericoloso è Coppola al 34esimo che salta anche il portiere prima di vedere rispinto il suo tiro da Galati Quando tutti si aspettano la fine del tempo gli ospiti passano Notaro fugge sulla destra e mette al centro dove c'è solo Moscufo Il primo tiro dell'attaccante è parato da Disisto ma non il secondo ed in questo modo lo 0-1 è servito Nel secondo tempo i locali entrano con un altro piglio e lo si capisce al dodicesimo quando Nicola Morosa chiama gli straordinari sedile Poco dopo è ancora Morosa dalla distanza ma la palla sfiora il palo Al diciottesimo i verdi sfiorano il raddoppio Coppola sfugge a Ciarlalierlo ma il suo diagonale fa la barba al palo Al diciottesimo l'FC Molise ci prova sull'asse Polzella a Iannotti con la mira che lascia a desiderare di quest'ultimo Nel finale Coppola dentro l'area si vede respingere il tiro da Varsanore mentre alla fine si materializza il raddoppio Il nuovo entrato Pasquino difende la palla si gira e spara un bolide dai 25 metri che sosprende Disisto In questo modo il risultato si cristallizza sullo 0-2 per il Castel Mauro che sbanca con merito l'antistadio di Selvapiana Tiro al volo ieri si è disputata la prima prova del campionato invernale molisano del double trap al TAV di Campomarino il podio ha visto al primo posto Michele Testa secondo Alfredo Passarelli terzo Giuseppe Montariello la seconda e ultima prova ci sarà domenica prossima al TAV di Riccia questo pomeriggio la differita di calcio è Real Termoli-Agli andrà in onda sul canale 12 Tele Molise 2 alle ore 17 sul canale 112 Tele Molise Sport alle ore 20 e 30 calcio a 5 di Serie C2 ottimo primo tempo per il Sant'Elena Sannita Acqua Molisia contro la capolista Mickey Mike che nella ripresa ha ribaltato il passivo di 2 a 1 il big match della prima giornata del giornale di ritorno tra Sant'Elena Sannita e Mickey Mike finisce con un clamoroso 3 a 8 buona la partenza della squadra di casa che chiude in avvantaggio il primo tempo per due reti a 1 le reti arrivano al quinto minuto con il gol di Reale Armanetti ruba la palla a centrocampo in controvere serve il deratore numero 14 che realizza l'1 a 0 il 2 a 0 è un classico contropiede parata del portiere lancio lungo direttamente in area di rigore per De Tollis che di testa realizza il 2 a 0 regge la difesa della Sant'Elena ma al 34esimo minuto in pieno recupero deve subire il diagonale di Natale che si va ad insaccare sul palo lontano nella ripresa sale la stanchezza per gli uomini di mister Gian Russo e dal quinto minuto è Corbo a realizzare da fuori il gol del 2 a 2 al dodicesimo minuto è ancora Corbo che realizza la sua doppietta personale saltando Camarda con un buon numero e insaccando la rete del 3 a 2 al diciottesimo minuto azione di contropiede e c'è il numero 9 De Angelis che va a realizzare rubando il pallone il gol del 4 a 2 al ventitreesimo c'è il primo tiro libero in favore del Mickey Mike Ardone va sul dischetto tira para bene Camarda ma sulla rispinta c'è il gol del numero 10 Marcello al venticinquesimo arriva anche la sesta rete per gli ospiti la realizza il numero 3 proprio Ardone che si alza la maglietta e per doppia munizione l'arbitro Gennarelli lo caccia e lo espelle per seconda munizione al ventottesimo accorcia le distanze il Sant'Elena con Terriaca che su fallo laterale va a realizzare il 3 a 6 al ventiniesimo arriva anche il gol di Marandola che va a realizzare su tiro libero il 7 a 3 al trentatresimo arriva anche la doppietta personale per Marandola che va a realizzare così l'ottava rete finisce con un clamoroso 8 a 3 e con questa vittoria la Mickey Mike sembra poter ipotecare la vittoria del campionato adesso vediamo i risultati che sono maturati in prima categoria cominciamo con il girone A Carpinone Sestolese 2 a 3 Cerro Conca Casale 1 a 2 Colli Rufre 1 a 2 Macchia Pesche 2 a 0 Pizzone Sanniti 2 a 2 Real Prata Montenero 3 a 1 San Pietro Avellana Forulum 2 a 3 Riposato Carullo in testa 31 punti per Carpinone Macchia Real Prata 28 Sestolese 26 Risultati nel girone B Baranello Fossaltese 2 a 3 Macchia Valfortore Murgansia 3 a 1 Mirabello Colle Danchise 7 a 0 Ratino Morgia 0 a 1 Gildone Pietra Montecorvino 4 a 2 Ripalimosani Cerce Maggiore 2 a 1 Volturino Boissi Elzi 1 a 2 In testa al girone B troviamo Ripalimosani 32 Pietra Montecorvino e Gildone 29 Cerce Maggiore 25 Il girone C Campobasso Calcio Frentania 2 a 5 Campomarino San Martino 1 a 3 Fiammalarino Petacciatese 1 a 2 Quartiere Nord San Giacomo 3 a 2 Sant'Angelo Colletorto 4 a 3 Santo Stefano Ururi 0 a 2 Sporting Termoli Cuglionesi 1 a 1 Riposato Endas In testa al girone C troviamo San Martino 34 Ururi 31 Sporting Termoli e Quartiere Nord Campobasso 27 Vi ricordo l'appuntamento con Molise a calci questa sera alle ore 21 insieme a Gianni Bruno Tabita Morgese ci saranno ospiti ci saranno naturalmente commenti opinioni e la nostra Moviola attesissima perché ieri ci sono stati veramente tanti calci di rigore Molise a calci alle ore 21 sempre naturalmente su Tele Molise è tutto buon pomeriggio a buon pomeriggio a buon pomeriggio Grazie a tutti.